In questa edizione del Lady News, la Guardia di Finanza effettua un non sequestro per 8 milioni di euro al latitante Nuccio Mazzè, reggente alla famiglia mafiosa dei carcagnosi. Nuovi danneggiamenti per i parcometri sostare, l'amministrazione comunale promette più controlli convinta che dietro a questi atti ci sia un chiaro disegno estorsivo. Secondo Catania Bene Comune occorre bloccare il bando degli asili nido e propone tre misure per salvarli. Grande successo per il presepe vivente a Palagonia che si è concluso ieri con l'arrivo d'Ere e Maggi. Ecodenominatore, la base economica. Professionisti e imprese possono contare oggi su una realtà solida e presente sul territorio. Banca Base, il nostro obiettivo, realizzare i vostri progetti. Mamma e papà, due parole semplici e piene d'amore, perché dall'amore che arrivi tu. Sei il dono visibile, ci regali felicità, sei il presente e il futuro. Mondo Ragazzi pensa a tutte le future mamme e le premia regalando 100 euro in buoni acquisto. Abbigliamento e calzature per bambini con i marchi più presigiosi. Corsi preparto gratuiti, parcheggio riservato, angolo fasciatoio e stanza dei giochi. Mondo Ragazzi si trova a Catania, in via Pola 19. Mondo Ragazzi, amici d'infanzia. Guardare oltre alla ricerca della precisione assoluta. Dal 1975 da Crazy Time, perfezione, passione, tecnologia, energia inesauribile. Rimeditore ufficiale di orologi radiocontrollati, navigatori GPS e bussole. Da Crazy Time, cinturine e batterie delle migliori marche. Assistenza, riparazione e manutenzione durante e fuori garanzia. Orologi moda e gioielli in acciaio. Puoi acquistare il tuo orologio anche online. Scopri le offerte, vai sul sito crazytime.it e sulla pagina Facebook. Ogni giorno qualcosa di nuovo dà valore al tuo tempo. Crazy Time, dal 1975 a Catania, in corso delle province 35. La Sicilia muore, ma si può ancora salvare. È indispensabile imboccare subito la strada della crescita. Perché accada, la classe dirigente siciliana deve intervenire sulle istituzioni, affinché diventino efficienti. Perciò serve l'informazione investigativa, propositiva ed efficace. Scoprila su QDS.it Campagna Etica 2014. Abbonati al quotidiano di Sicilia. Il tuo contributo è un prezioso sostegno al grande progetto di risorgimento Sicilia per lo sviluppo e l'occupazione. Quattro immobili a Catania, tre veicoli, significative quote relative a una società catanese, una bergamasca, conti correnti, quote di fondi di investimento, dossier titoli, polizze risparmi e crediti per un controvalore complessivo valutabile intorno agli 8 milioni di euro sono stati sequestrati dagli uomini alla Guardia di Finanza di Catania in esecuzione di un non provvedimento emesso alla sezione misure di prevenzione nei confronti di Sebastiano Mazzei, figlio di Santo Mazzei, detenuto al 41 bis, noto come Carcagnuso e considerato uomo d'onore vicino ai mafiosi Bagarella e Brusca. Nuccio Mazzei è considerato irregente alla famiglia mafiosa dei Carcagnusi, attiva a Catania, ma con diramazioni anche nel nord Italia. Nell'aprile dello scorso anno, Mazzei, colpito insieme ad altre 10 persone da un'ordinanza di custodia catolare in carcere nel quadro dell'operazione Scarface, si era sottratto all'arresto. Nell'ambito delle indagini era in particolare emersa la diretta gestione da parte di Sebastiano Mazzei e dei suoi più stretti collaboratori degli affari dei Carcagnusi, consistenti nel reinvestimento dei proventi derivanti alle attività illecite, non solo estorsioni ma anche bancarotta aggravata dal metodo mafioso nel circuito legale attraverso l'acquisto di attività economiche, tutte fittiziamente intestate a prestanome. Sulla scorta e le evidenze raccolte, i militari e il nucleo di polizia tributaria di Catania, coordinate alla locale direzione distrettuale antimafia, hanno quindi avviato una mirata innagine patrimoniale nei confronti al Mazzei e del suo nucleo familiare, allo scopo di sottrarre alla disponibilità degli stessi beni illecitamente accumulati e nel contempo stringere il cerchio attorno al fuggitivo, privando delle risorse finanziarie che possono sostenere la latitanza. Tutto ciò nella consapevolezza che, tra le misure più efficaci di contrasto alla criminalità organizzata, vi è certamente quella dell'aggressione dei profitti derivanti alle attività illecite già immesse del circuito economico legale. Le investigazioni, condotte anche attraverso l'utilizzo di sofisticati software sviluppati alla Guardia di Finanza per l'analisi di tutte le informazioni disponibili nelle banche dati, hanno consentito di individuare beni mobili e immobili illecitamente accumulati alla famiglia Mazzei e di proporne alla competente autorità giudiziaria il sequestro. Un esodo senza precedenti sta per prendere il via riguarda la magistratura e soprattutto giudici e PM che per necessità sono costretti ad appendere la toga al chiodo sono le vittime della norma che ha riportato a 70 anni l'età della pensione dei magistrati e che avrà come effetto quello di decapitare svariate centinaia di uffici giudiziari a cominciare dalla Corte di Cassazione. Con il risultato che il CSM nell'anno in corso dovrà provvedere a una montagna di quasi 500 nomine tra capi e loro vice di procura e tribunali un picco mai raggiunto che equivale a dire che Palazzo di Marescialli dovrà ricoprire quante tre posti di vertice al mese 14 a settimana numeri che sembra quasi impossibile fronteggiare considerato che in media il CSM occorre più di un anno per ricoprire un singolo incarico direttivo e che hanno spinto i consiglieri di Palazzo di Marescialli oltre che adattezzarsi con un rafforzamento della struttura organizzativa di supporto e con altre misure per velocizzare le procedure a rivolgere un appello al Ministro della Giustizia graduare le uscite dei magistrati in almeno un biennio Nel governo sinora non è giunta alcuna risposta con il risultato che entro il 31 dicembre 2015 dovranno lasciare la magistratura 308 magistrati mentre è presumibile che altri 137 eseguranno i loro passi perché avendo già compiuto 68 anni ed essendo costretti a lasciare la toga quando ne avranno 70 si vedono sbarrato l'accesso a nuovi incarichi direttivi visto che non potranno assicurare i tre anni di permanenza e minima richiesta ma oltre ai posti che rimarranno vuoti per effetto della norma sui 70 anni il CSM dovrà ricoprire le poltrone di vertice che sono comunque in scadenza in tutto dovrà essere rinnovati sono 284 incarichi direttivi e 199 semidirettivi giù sono stati banditi i concorsi per sostituire i capi degli uffici giudiziari che lasceranno per primi loro incarichi per raggiunti i limiti di età tra loro ci sono il procuratore del processo del comandante Francesco Schettino per il naufragio della Concordia Francesco Verusio e i presidenti dei tribunali di Torino, Firenze, Palermo e Milano ma anche il PG della Cassazione Gianfranco Ciani proprio la Cassazione sarà uno degli uffici più decimati alla norma sui 70 anni entro la fine dell'anno oltre alla presidente Giorgio Santa Croce lasceranno 38 presidenti di sezione tra cui Antonio Esposito il presidente del collegio che ha condannato Silvio Berlusconi per frode fiscale e Maria Gabriele Luccioli la prima donna a raggiungere i vertici della Suprema Corte effetti pesanti alle nuove norme ma anche sugli uffici giudiziari milanesi in un sol colpo oltre al presidente del tribunale Livia Pomodoro dovranno lasciare il procuratore Edmondo Bruti Liberati il PG Maglio Minale l'avvocato generale Laura Bertolai Viale tanti sono pure i procuratori generali che dovranno passare la mano tra gli altri a Roma Luigi Ciampoli a Venezia Pietro Calogero a Torino Marcello Maddalena a Catania Giovanni Tinebra a Firenze Tinneri Baione ad Ancona Vincenzo Macria a Perugia Giovanni Galati dovranno lasciare la toga anche Mario Barbuto capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia e Gianfranco Amendoli il procuratore di Civitavecchia ex pretore d'assalto che qualche giorno fa ha ottenuto il sequestro l'olio d'otto Eni che collega Civitavecchia all'aeroporto di Fiumicino e sarà a pensione coatta anche per il presidente del Tribunale di Napoli Carlo Alemi e per Franco Sebastio il capo della procura di Taranto che ha in mano l'inchiesta sull'ILBA Il presidente Lanas Pietro Ciucci ha effettuato un non sopralluogo alla viadotto di Scorciavacche sulla strada statale 121 catanese in Sicilia crollato solo pochi giorni dopo l'inaugurazione il 23 dicembre scorso grazie agli ultimi provvedimenti e al governo abbiamo avuto finanziamenti per intervenire anche sui viadotti soprattutto in Sicilia dove ci sono 4.000 km di strada detto il presidente Ciucci si tratta di finanziamenti per quasi un miliardo di risorse in tutta Italia c'è una rete di 25.000 km di strada e per anni le risorse dedicate alla manutenzione sono state modeste abbiamo viadotti vecchi decine di anni ha aggiunto il presidente Lanas e in merito al viadotto di Scorciavacche Ciucci ha detto mi auguro che entro primavera il tratto verrà riaperto e l'entità del danno è contenuta nell'ordine di 100-200.000 euro Ciucci ha precisato che è in corso un'inchiesta Lanas affidata a una commissione composta di dirigenti interni da un professionista esterno esperto di geotecnica per chiarire le cause dell'evento che ha portato alla chiusura al traffico del tratto in questione al termine l'inchiesta sulla base dei suoi risultati Lanas proporà le necessarie azioni legali e procederà al recupero del danno subito che allo stato attuale dalle prime stime sembrerebbe quantificato in circa 200.000 euro in ogni caso l'onere non sarà a carico del bilancio Lanas noi siamo pronti a fornire ogni utile elemento alle indagini ha assicurato Ciucci Sono scesi di nuovo in piazza gli ex PIP dell'Ebbacino Emergenza Palermo si tratta di circa 3.000 persone senza stipendio a dicembre che chiedono garanzie sul loro futuro occupazionale in centinaia hanno assediato Palazzo dei Normanni sede all'Assemblea regionale siciliana andremo avanti ad oltranza fino a quando non avremmo risposta abbiamo trascorso il Natale senza un euro viviamo una situazione insostenibile spiegano la norma che avrebbe dovuto garantire i loro stipendi per i prossimi mesi assicurando lo stanziamento di 9 milioni di euro è stata stralciata alla DDL sull'esercizio provvisorio durante la seduta di sabato scorso al presidente L'Arso Giovanni Ardizzone che aveva lamentato l'assenza di una relazione tecnica riviando il testo in commissione La mancata proroga del blocco degli sfratti in aggiunta alla mancata ripartizione del fondo per le morosità incolpevoli rischia di determinare in Sicilia e soprattutto nelle grandi aree urbane un'emergenza sociale di proporzioni gravissime con migliaia di famiglie che vedono messa in rischio la propria serenità e la propria condizione abitativa a dirlo il presidente di Anci Sicilia e il sindaco di Palermo Leo Luca Orlando intervenendo sulla decisione del governo di non non concedere la proroga la mancata proroga ha effetti particolarmente negativi anche in relazione alla situazione economico-sociale complessiva aggravata anche dalla condizione occupazionale aggiunge Orlando occorre che il governo nazionale e regionale dia un avvio ad una seria politica dell'abitare volta alla valorizzazione del già esistente patrimonio pubblico e che tuteli le fasce più deboli della popolazione apprendiamo con interesse la volontà dell'assessore alle infrastrutture Giovanni Pizzo di volere procedere dalla riforma degli ACP siciliani trasformandoli in un'unica agenzia della casa che possa dismettere profiguamente il patrimonio immobiliare attualmente gestito con notevoli perdite dagli stessi istituti e case popolari e di conseguenza con ricadute negative per la regione che alla fine diventa il pantalone di turno senza alcun correlativo servizio a dichiararlo è il capogruppo di Forza Italia all'Arso l'onorevole Marco Falcone in merito alla notizia appunto di sopprimere gli ACP siciliani Forza Italia ha sostenuto Falcone per ben due volte attentato nelle precedenti finanziarie di far approvare alcuni emendamenti che tendevano alla soppressione e dunque alla trasformazione di alcuni enti non più produttivi anzi considerati inutili come gli ACP violessa ma la maggioranza ha sempre risposto picche e guarda caso su questi emendamenti si è ricompattata respingendoli bisogna finalmente avere il coraggio di azioni forti eliminando quelle sacche di improduttività concluso il capogruppo forzista diversamente per la Sicilia non ci sarà futuro il piano di riforma del comparto forestale che sta predisponendo l'assessorata all'agricoltura di concerto con quella al bilancio si pone quali obiettivi strategici quello di bloccare il turnover e far transitare il 20% degli addetti antincegni alla manutenzione disattenere l'obbligo al rispetto delle garanzie occupazionali per tutti i dirigenti procedere a tagliare il 30% alla forza lavoro e affidarsi ad imprecisati prepensionamenti se queste indiscrezioni dovessero sciaguratamente corrispondere a verità significherebbe che il governo Crocetta con la nobile scusa di risparmiare in realtà mira al definitivo smantellamento del comparto forestale pertanto a quello del patrimonio boschivo siciliano che nel 2014 ha subito un incremento di incendi rispetto al 2013 di oltre il 600% a sottolinearlo il segretario generale del Sifus Maurizio Grosso che aggiunge il Sifus non ci sta e respinge il mittente a questa scelerata scelta politica contro i lavoratori forestali e contro il patrimonio boschivo prima di organizzare eclatanti azioni di lotta finalizzate a bloccare questo disegno mortale per il comparto il Sifus ha richiesto un incontro urgente con l'assessore dell'agricoltura l'onorevole Calega e con il presidente della regione l'onorevole Crocetta qualora dice Maurizio Grosso la richiesta di incontro dovessero rispondere negativamente ci autoconvocheremo mercoledì 14 gennaio all'assessorato all'agricoltura a Palermo attraverso l'incontro l'autoconvocazione il Sifus intende dimostrare al governo che esiste una strada alternativa ai tagli fine a se stessi questa è rappresentata dal DDL 104 2013 attualmente ferma in commissione territorio e ambiente tramite questo DDL è possibile riformare il settore dentro un quadro di sviluppo sostenibile e pubblica utilità con la messa in sicurezza del territorio abbattendo notevolmente le spese di bilancio annuale è stato l'assessore alle partecipate Giuseppe Girlano a rendere noto che un altro parcometro della sostare il diciannovesimo in meno di un mese è stato fatto saltare con una carica di esplosivo sottolineando come stavolta non sia neanche stato preso il denaro all'interno della colonnina una volta fatti saltare i nari i parcometri portati nel deposito della sostare sono impossibili da riparare sembra confermata detto Girlano la nostra idea che non si tratti di furtico scasso ma della violenta reazione di chi si oppone in maniera organizzata al fatto che il comune con sostare e MT abbia finalmente regolato il sistema dei parcheggi nel centro storico il presidente di sostare Gilberto Cannavoami ha comunicato detto Girlano che sono stati già ordinati i nuovi parcometri che dovranno arrivare dalla Germania rimpiazzati gratuitamente la ditta tedesca che ce li affitta nel frattempo già da oggi quelli fatti saltare in aria saranno sostituiti con quelli che abbiamo in magazzino la società ricorda come esistono due sistemi alternativi di pagamento una utilizzando lo smartphone e l'app Easy Park e l'altra attraverso la Neospark una card elettronica con un display ricaricabile anche via web intanto ha sottolineato l'assessore alle legalità Rosario Dagata come si registri con grande interesse il risveglio e la coscienza civile con la reazione sui social media di molti cittadini che non ne possono più dei posseggiatori abusivi e invitano i catanesi a ribellarsi a non pagare a denunciarli addirittura fotografandoli ci si è resi finalmente conto ha aggiunto Dagata di come questi fenomeni non siano spontanei di come non si tratti semplicemente di padri di famiglie che raggranellano qualche soldo a portare a casa ma di persone che fanno parte di organizzazioni complesse che agiscono in maniera coordinata il fenomeno ha aggiunto Dagata non è solo catanese ci sono addirittura un'app e un sito nazionale www.parcheggiatori.it che segnalano nella città di Catania 45 siti dove si trovano parcheggiatori abusivi con le tariffe rischi di danneggiamento alle auto e di incolumità alle persone spesso aggredite insomma è il segnale di un cambiamento di mentalità che seguiamo con grande interesse e al quale ci vogliamo collegare per cercare di far uscire Catania dall'illegalità intanto da oggi grazie al fatto che finite le feste si potrà contare su un maggior numero di vigili urbani come ha ricordato l'assessore della polizia urbana Marco Consoli la lotta a racket si combatterà principalmente nell'area tra le piazze Spirito Santo Gambino e Manganelli autentico fronte di questa battaglia tra legalità e illegalità ma abbiamo anche attivato ha aggiunto Consoli la centrale operativa del corpo dei vigili per accogliere ed elaborare le segnalazioni dei cittadini attraverso queste segnalazioni stileremo una mappa dettagliata della presenza dei parcheggiatori abusivi in città per programmare apposite operazioni sono tre le proposte che Catania Benecomune avanza per salvare gli asili nido a Catania da tempo una querella appunto fra Catania Benecomune e l'amministrazione comunale su come si stanno gestendo gli asili nido sono pochi i bambini che li frequentano e con il nuovo bando si rischierebbe di dimezzare ancora di più la possibilità di accesso il numero di accesso di bambini agli asili nido una piccola vittoria forse Catania Benecomune la sta ottenendo perché intanto sono stati prorogati i termini del bando ma innanzitutto bisogna rivederlo completamente secondo voi questo bando proponendo cosa? Allora innanzitutto questa vittoria c'è è chiaro che aver spostato i termini del bando di due settimane è la testimonianza la dimostrazione del fatto che qualcosa in questo bando non andava era inaccettabile questa riduzione del personale e dei bambini alla diminuzione dei bambini da 740 a 360 corrisponde una riduzione del personale di circa il 60% con licenziamenti che capiamo bene in questa situazione di crisi sono assolutamente inaccettabili per la città però noi ci teniamo a precisare che ci sono delle modalità per salvare questi asili innanzitutto non debbano essere più visti come un bacino da cui attingere ai risparmi dell'amministrazione sugli asili nido su tutti i servizi sociali bisogna investire bisogna investire profondamente i tagli se vanno fatti vanno fatti in altri ambiti quali sono le proposte innanzitutto rivedere questo bando è vero che c'è questa proroga ma è anche vero che noi dobbiamo rivedere completamente il sistema del bando assicurare i posti a 740 così come erano previsti inizialmente e anche assicurare il lavoro a queste lavoratrici in secondo luogo noi dobbiamo rimpinguare quel fondo in bilancio istituito proprio dall'Aggiunta Bianco per fare in modo di contribuire come Comune di Catania alle rette per le famiglie meno abbienti c'è questa possibilità noi chiediamo che venga fatto questo investimento in terzo luogo va rivisto completamente la modalità di gestione dei servizi a domanda individuale non capiamo perché il Comune non deve fare in modo che anche la sostare i parcheggi rientrano ai servizi a domanda individuale facendo crescere di gran lunga il bilancio totale dell'ente quindi permettendo di avere le risorse sufficienti anche per mantenere il servizio degli asili nido ci sono vincoli di bilancio ma ci sono anche le modalità per aggirarli fermo restando che è chiaro che disincentivare e disinvestire dai servizi sociali è una cosa che non possiamo assolutamente accettare queste proposte verranno presentate domani pomeriggio in una conferenza stampa insieme alle lavoratrici degli asili nido avete scelto come luogo proprio il portone il marciapiede davanti la sede dell'assessorato ai servizi sociali sperando che qualcuno vi ascolti sì è il luogo simbolico è il luogo dove sono state prese purtroppo queste scelte assurde è il luogo in cui noi vogliamo lanciare le nostre proposte e la soluzione a questi problemi saremo là per avere l'attenzione dell'assessore Villari ma anche del sindaco bianco che proprio sugli asili nido ha centrato la sua campagna elettorale e ora è assurdo che provveda a distruggerli proprio per questo saremo lì la nostra battaglia non si ferma abbiamo questi 15 giorni in più li affronteremo ogni singolo giorno come un momento per convincere l'amministrazione e convincere la città abbiamo iniziato questa battaglia abbastanza isolati ora due gruppi consigliari di maggioranza sono con noi e addirittura tutte le associazioni categorie delle cooperative sono con noi a chiedere la revisione di questo bando per noi è una grande vittoria il fatto che molte cose giuste vengono anche dall'opposizione di questo l'amministrazione deve farsi carico un posto fisso di polizia al pronto soccorso il Vittorio Emanuele al Garibaldi al Cannizzaro a chiederlo sono il sindacato FSI e il personale al pronto soccorso il Vittorio Emanuele dove lunedì scorso un uomo ha minacciato due infermiere con un coltello seminando il panico tra i pazienti oltre 15 persone in attesa di essere soccorsi con codici giagli e verdi il sindacato aveva già denunciato episodi analoghi lo scorso luglio ai prefetti alla Sicilia al questore al direttore generale del Policlinico Vittorio Emanuele di Catania un posto fisso di polizia ormai necessario dichiara Calogero coniglio dopo i numerosi episodi di violenza che si sono registrati all'interno dei punti di emergenza negli ultimi mesi ben tre volte il personale sanitario e il pronto soccorso ha rischiato aggressioni fisiche l'ultimo lunedì al pronto soccorso il Vittorio Emanuele una situazione che ha allarmato i pazienti presenti e che dovrebbe suscitare l'attenzione anche del gruppo al Consiglio Comunale avevamo scritto anche alla Regione al Sindaco Bianco che hanno ignorato la problematica da noi segnalata non convocandoci sono state fatte nove denunce alle procure siciliane due interrogazioni parlamentari a firma del senatore Antonio Scavone e l'onorevole Giuseppe Beretta ma nulla di fatto ma finalmente fa notare coniglio il sindacato è stato ricevuto dal vice prefetto Ettenneo la prefettura infatti si è già attivata per iscritto chiedendo alle direzioni chiarimenti in merito alle precedenti aggressioni per verificare se sono state rispettate le norme sulla sicurezza e il lavoro da parte dell'azienda e al questore per i controlli del caso al pronto soccorso sono tutti molto preoccupati e vogliono garanzie per la loro incolumità così non è possibile andare avanti quanto dobbiamo aspettare dice Coniglio per risolvere la situazione e soprattutto le direzioni quali provvedimenti intende adottare in attesa che il questore decida di inviare i poliziotti il sindacato FSI CNI chieda alla direzione urgentemente di cercare intanto soluzioni alternative rinforzando magari il servizio di vigilanza interno due vigilantes non sono sufficienti uno è alla portineria e uno di ronda significa che prima che arrivi il vigilantes che deve lasciare la portineria con il rischio di lasciare la barra chiusa o l'ambulanza o una macchina che arrivano in urgenza il personale può subire di tutto nella nota inviata abbiamo chiesto alla direzione di garantire maggiore sicurezza sia rafforzando il personale di vigilanza privata sia impiegando strumenti tecnici e organizzativi in grado di concorrere ad abbassare il livello di vulnerabilità del pronto soccorso ci affidiamo conclude Coniglio alla sensibilità del questore affinché si faccia portavoce nei confronti il ministro dell'interno per sonare questa emergenza prima che possa accadere il peggio si è concluso ieri sera con l'arrivo dei Remmaggi a Palagonia il preseve vivente realizzato appunto nella piccola cittadina del Calatino presso l'ermo di Santa Febbronia sono stato scoraggiato da più parti quando abbiamo individuato questo sito straordinario meraviglioso nel territorio palagonese che addirittura anche molti palagonesi sconostano o addirittura non hanno mai visitato o se lo hanno fatto lo hanno fatto in tempi molto lontani e allora ci sembrava veramente bello e significativo riproporre le scene del presepe in questo contesto così naturale naturalisticamente bello ed è stata una sfida è stata una sfida perché qui fa freddo perché qui il vento soffia più volte al giorno però è stato bello è stato bello soprattutto perché la vera sfida non è stata quella di costruire quello che si può vedere dalle immagini ma soprattutto mettere insieme le persone creare comunità creare intesa creare un gruppo che potesse insieme credere di poter regalare la città di Palagonia e alle parrocchie di Palagonia la gente di Palagonia uno scorcio veramente bello di quello che ha nel contesto così anche straordinario del Natale che si colloca perfettamente in questa serie di grotte che appartengono a questo sito archeologico molto bello un grande successo grazie all'iniziativa portata avanti a Don Piero Sortino e tutte le associazioni che hanno contribuito all'ottima riuscita dell'evento che si è rivelato affascinante e al contempo molto suggestivo abbiamo sfiorato quasi 5.000 persone come visite abbiamo avuto anche ecco così l'onore di ricevere la visita di due vescovi del nostro vescovo di Monsignor Calogelo Peri e dell'arcivescovo di San Francisco che si trovava qui per ragioni sue e che insomma ha saputo di questo nostro presepe e ci ha voluto fare visita oltre ai tantissimi palagonesi a molta gente di Militello di Scordia di Caltagirone di tutto il comprensorio persino dell'ennese del Catanese quindi siamo veramente orgogliosi di avere potuto dare alla città di Palagonia un lustro particolarmente significativo in questo Natale mettendo in scena questo presepe con la collaborazione lo ripeto come detto di tante associazioni di tanti giovani non è il presepe della mia parrocchia non è il presepe della parrocchia Madonna di Trapani di San Sebastiano è il presepe dei palagonesi di Palagonia abbiamo solo reso un servizio e siamo contenti di averlo fatto a di a a a a a a a Grazie a tutti.